Ciao a tutti sono Luca di Double Clutch e questa è la presentazione della scarpa Jordan Westbrook 0.1 Mi raccomando 0.1 e non 0.1 perché non si sa mai che gli haters ce l'hanno con il mio inglese Comunque partiamo subito con questa presentazione tecnica che state aspettando da tempo Ma sono anche, siamo contenti e orgogliosi di dire che siamo tornati back on tracks Ci siamo da un bel paio di mesi forse, stiamo uscendo tutte le settimane Iniziamo subito come sempre partendo dalla trazione Questa prima vera signature di Russell Westbrook parte alla grande perché proprio nella nostra prima categoria Abbiamo una traction incredibile, molto molto aggressiva A tutta lunghezza questo pattern multidirezionale che sappiamo già che aggredisce il suolo molto molto bene Perché lo sappiamo? Perché Russell Westbrook è super super esigente in termini di trazione Avete visto tutti che nelle ultime scarpe che ha utilizzato Lui praticamente si è fermato alla 29 Dopo la 30 gli ha messo la suola, gli ha fatto mettere le suola della 29 La 31 anche, la 32 forse dopo ha accettato comunque la traction della 32 E quindi di per sé sappiamo che se deve avere una signature La parte più interessante sarà sicuramente la traction Anche perché lui la sfrutta parecchio Eh sì direi con quei cambi di direzioni Però tra l'altro quello che mi piace di più di Westbrook è senza dubbio il modo in cui schiaccia Questa è una parentesi Pensavo al modo in cui si veste No quello no, quello no Ah tra l'altro un leak incredibile Usciranno delle colorazioni di Westbrook 0.1 proprio ispirate a come si veste Quindi assolutamente matte, direi proprio matte Matte Mattissime Andiamo avanti passando dalla traction all'ammortizzamento E qua abbiamo una bella svolta perché vi dico così Perché una scarpa per come prima signature shoe ad un retail price molto molto buono 131 euro Abbiamo full length zoom air Quindi zoom air a tutta lunghezza che si estende, ripeto Lungo tutta l'intersuola Quindi dalla parte posteriore a quella anteriore Quindi è una scarpa che ci dà molta molta sensazione di presa sul terreno Molta reattività ma anche tanta protezione dagli impatti Per quanto riguarda i materiali Abbiamo una cosa che in realtà a me non è piaciuta subito la prima volta che l'ho vista Perché come vedete tutta la tomaia è in materiale sintetico In fuse Che però quello che non si nota, non si vede Ricopre solamente la scarpa nella parte più che altro anteriore Dalla parte centrale alla punta del piede Ricopre la scarpa Ma in realtà la parte che tocca il nostro piede è tutta in mesh Quindi materiale comunque un po' più piacevole da sentire a contatto con il piede E soprattutto c'è una buona imbottitura, una buona foam, una gomma piuma Che comunque tutto questo per dirvi che non è quello che sembra A me la prima volta, e purtroppo non potevo provarla perché il sample mesi e mesi fa era taglia 9 Io taglia 11 Mi sembrava proprio un plasticone, passatemi il termine Invece devo ammettere che non è assolutamente così Per quanto riguarda la calzata abbiamo una vestibilità true to size Quindi andate tranquillamente con la taglia che vestite regolarmente Se vestite un 11 come me andate tranquillamente di 11 US Ovvero 45 europeo A livello anteriore è un pelino stretta proprio nella zona dove c'è la più pressione Dove mettiamo più pressione, la zona un po' più stretta Quella che dà un po' più fastidio ecco se non stiamo attenti Ma comunque non vi preoccupate che io non vi consiglio assolutamente di salire di mezza taglia La scarpa prende la forma dopo qualche utilizzo Per quanto riguarda il supporto ecco qua abbiamo una bella svolta Perché questa Westbrook 0.1 è molto molto protettiva Soprattutto a livello posteriore e voi dite ovviamente ce l'aspettavamo Perché questo mega rinforzo è proprio quello che ci protegge Per evitare di far slittare fuori dalla base d'appoggio il nostro piede nei movimenti laterali Questo classico appunto heel counter non è solo quello che vedete esternamente Ma c'è anche una piccola protezione in TPU inserita all'interno della tomaia stessa Il resto della scarpa è molto molto protettiva sia per quello che vi dicevo prima Quindi per l'overlay in fuse quindi lo strato superiore in materiale sintetico in materiale plastico Che per il classico outrigger molto molto pronunciato in questa nuova Westbrook Perché anche qui lo sappiamo abbiamo visto mille foto in action di Russell Westbrook Quando cambia direzione in maniera molto molto potente sull'avampiede vediamo che slitta sempre fuori Proprio per cercare di evitare o di ridurre al minimo questa uscita del piede dalla base d'appoggio Anche a livello anteriore abbiamo un'estensione della suola che ci dà ancora più protezione a livello laterale Per quanto riguarda, ah vabbè scusatemi il supporto a livello posteriore è dato anche da questo piccolo strap Comunque da questo taglio alto della scarpa a mio parere non fa tanto e non fa molto Perché lo sapete che a me piace ricordarvi sempre che il supporto laterale soprattutto a livello posteriore È sempre dato dall'heel counter piuttosto che dall'altezza della scarpa stessa Come considerazioni finali e personali devo ricredermi tantissimo Chi mi ha scritto anche mesi fa sa che non mi piaceva questa scarpa Ve lo dico proprio così non mi piaceva per nulla La prima volta che l'ho visto l'ho detto anche a Francesco quando sono tornato qua Perché eravamo andati io e Niccolò mi sa quella volta lì E non mi piaceva proprio per questa cosa che il materiale sintetico non mi dava fiducia A me piace tanto sentire comunque una scarpa fresca O se non è fresca deve essere in pelle o in materiale comunque molto imbottito old school Qua invece è un materiale molto molto nuovo a scuola diciamo così C'è una stratificazione di materiali per dare un supporto molto molto elevato soprattutto ripeto a livello anteriore Ma anche quello che non potevo sapere non avendola provata ci dà anche una sensazione molto piacevole È tanto imbottita e tanto bella da vestire questo devo sicuramente dirvelo Un'altra cosa importantissima al piede si sente molto lo zoom air perché magari non si percepisce lungo tutta l'intersuola Ma non interessa che si senta tanto sul tallone e sull'avampiede quindi nei punti dove c'è più bisogno di protezione dagli impatti e reattività Diciamo anche che il design quindi il tipo di materiale il tipo di estetica portano a lavorare tanto sulle colorazioni Quindi abbiamo già visto delle colorazioni ripeto matte ma anche delle colorazioni molto ispirate proprio alla squadra ok si quindi tutta arancione tutta blu E in tanti ce l'avete già chiesto ne escono poche ne escono poche non escono mille di colorazioni ma ne esce tipo una al mese Se sintonizzate perché in aprile dovremmo averne ecco quindi la settimana la settimana La settimana di aprile Però con noi questo video quando lo facciamo uscire Qua ti ho fregato Forse dopo Sono già online Bellissima questa Sono già online le avete già viste Va bene comunque le colorazioni sono spettacolari proprio grazie a questo utilizzo di materiali nuovi Che permettono di lavorare in maniera più stravagante rispetto al solito E ripeto il retail price 131 euro Molto molto buono per essere una signature shoe di un giocatore come Russell Westbrook Che appunto l'anno scorso ha rotto il record delle triple doppie e è diventato MVP Quindi comunque è un giocatore incredibile Jordan Brand fa una signature shoe e la lancia a 131 euro Secondo me molto molto buono Ma ovviamente fatemi sapere cosa pensate voi di questa scarpa di questa presentazione E della collezione Questo è super plain super easy Black white black anzi scusate Vi piace di più questa o vi piace qualcosa di più stravagante di più matto Grazie a tutti